Sto leggendo un libro di Ernest Hemingway Addio le armi, una grandissima, meravigliosa storia d'amore tra il protagonista e un'infermiera durante la prima guerra mondiale sul fronte italo-austriaco. È un libro che comunque non mi sta prendendo molto, sinceramente. Avevo preferito di Ernest Hemingway Fiesta Mobile, sulla sua vita a metà degli anni venti a Parigi, Belle Epoque, i suoi incontri con Scott Fitzgerald, con la moglie Zelda, con Gertrude Stein un'atmosfera che è facile cogliere nel film di Woody Allen Midnight in Paris. Ma non voglio ottenere una lezione di letteratura oggi in questo mio video, ma parlare del Milan e citando proprio, parlando del Milan del Milan che è atteso all'incontro di Nyon proprio citando una frase di Ernest Hemingway domani non è che un giorno qualsiasi di tutti i giorni che verranno ma quello che accadrà in tutti i giorni che verranno dipende da quello che accadrà domani. Traduco domani è l'11 di gennaio ma il futuro del Milan, cioè tutti i giorni che verranno dipenderà da quello che succede in questo incontro di Nyon. Incontro che viene ricordato anche sull'app di OneFootball che ricorda appunto questo, che cita appunto questo incontro come uno dei diciamo così degli appuntamenti dei crocevia del Milan del futuro. Il Milan tace, sappiamo che ci sarà, dovrebbe esserci a Ivan Gazzidis, sappiamo che ci saranno gli avvocati ma per quale motivo? Ma il Milan che comunque ha già avviato il ricorso al TAS dopo l'ultima sentenza che lo costringerà a chiudere il pareggio di bilancio entro il 2021 con una perdita al massimo annuale di meno 30 ebbene il Milan però vuole spiegare le strategie all'UEFA non vuole fare il rivoluzionario, non vuole andare contro l'UEFA ma vuole spiegare i tempi che servono al fondo Iliott per riuscire a pareggiare questo bilancio, vuole spiegare all'UEFA in quali termini vuole pareggiare il bilancio il Milan. Ripeto, senza andare contro i dettami dell'UEFA ma avendo un po' di spazio maggiore, le colpe dei padri cioè della gestione 2014, 2017, 2017 e 2018 il fondo Elio non vuole che cadano sui figli se possiamo parlare di gestione vecchia e gestione nuova e dunque il Milan andrà, ripeto, con i suoi avvocati con Ivan Gazzidis proprio a discutere di queste sue strategie è una discussione necessaria, è una discussione fondamentale perché l'UEFA deve capire che forse il 2021 è una data un po' troppo vicina deve capire quali siano i movimenti, deve capire quale sia l'importanza per il Milan di effettuare un mercato vincente per andare in Champions League per poter poi difendere il suo blasone e soprattutto portare a casa degli incassi, dei ricavi che gli possano permettere di tornare ai massimi livelli quindi domani è proprio un giorno importante proprio per i giorni che verranno Ivan Gazzidis, gli avvocati, il fondo Illiot a parlare del futuro del Milan un futuro che deve ritornare ai grandi livelli del passato ma serve ovviamente anche quella che Leonardo aveva chiamato comprensione dell'organo europeo se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegati e iscrivetevi al canale